E' la voglia di cantare, e la maglia di vola, forse mi è tenuta proprio a noi. Forse è stata una pazia, però è l'unica maniera, dire sempre quello che mi fa. Non potrà mai diventare direttore generale, due posti a delle terroriche. Non potrà mai far carina, nel giornale, nella sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darò il suo voto per parlare, per dacere la sua. E' la mia vita, 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 la mia vita. Achlonai Guarda invece che scienziate, che... Re dei formatri, ministri e deputati E se che è questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande, che ti assillano la mente, la mia vita, non ti preoccupare. Siamo a tua disposizione, sempre senza esitazione, loro ti risponderanno, io ti risposto e non ne ho, io faccio solo rock'n'roll. Se mi conviene, bene, io più di tanto non posso fare, mi presa lì di partito, mi hanno fatto un altro indito, mi hanno detto che finisce male, se ne andavo pure io, amato uno in generale, per la grande festa nazionale. Mi hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, Bianca Lara, devo il mio successo, che son pazzo ed inconsciente, sono l'irriconoscente, un soversivo, un mezzo criminal. Ma che ci volete fare, non vi sembrano normali, è l'istinto che mi fa volare. No, c'è già una visione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però per quelli malafeti, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. Ma che si è sedita, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi all'istretto. O con una coppia da in gola, mi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette. Non mettetemi all'istretto, sono solo, sono solo, sono solo canzonette. Non mettetemi all'istretto, non mettetemi all'istretto, non mettetemi all'istretto. Non mettetemi all'istretto, non mettetemi all'istretto, non mettetemi all'istretto. Non vedi che è un bel affare, non perdere l'occasione, se non fai bene finito. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari, che si fanno un petto per tempo. Avanti non perdere l'istretto, non perdere l'istretto, non perdere l'istretto. Tu dicevi tutti i diritti, allora faremo di tu, un vivo tra chi? Non è che è un vero affare, non perdere l'occasione, se non fai bene finito. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari, che si fanno un petto per tempo. Quanta fretta, ma dove corri? No, 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 che fortuna che hai avuto, ha detto un caro di noi. Lui è il gatto, io lavoro tu e stiamo in società. Lui è il gatto, io lavoro tu e stiamo in società. Lui è il gatto, io lavoro tu e stiamo in società.